Per due ore dalle 6.30 alle 9.30 di questa mattina per problemi al modulo telefonico tutte le linee del 118 sono rimaste bloccate. Gli operatori hanno da subito inoltrato sia la richiesta ai tecnici per risolvere in tempi rapidi il guasto che pare abbia interessato la sola provincia di Bari che a forze dell'ordine vigili del fuoco affinché eventuali richieste di emergenza fossero temporaneamente inoltrate su un numero alternativo per gli utenti. Il sistema sostituito con un centralino di backup ha ripreso a funzionare, ci ha confermato il dottor Gaetano Di Piero, direttore della centrale operativa del 118. Abbiamo continuato ad operare con linee analogiche secondo una procedura consolidata e condivisa rispondendo alle chiamate del 112, 113 e 115 prontamente allertate. I tecnici intanto restano al lavoro per comprendere la problematica. Il disagio dunque è stato limitato e il servizio è tornato alla normalità.